E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono il tenente d'attacco e siete tornati qui in un nuovissimo video Oggi siamo qui per commentare i miei pronostici, la mia schedina, appuntamento ormai settimanale Questa settimana uscirà sicuramente questo video, sicuramente il post partita del Novara perché andrò a vederlo allo stadio Vedo se riesco a fare un video sul Milan di lunedì perché il Milan e il Novara giocheranno alla stessa ora Quindi probabilmente non riuscirò, però vedo magari se ci riesco meglio Iniziamo subito al commentare Brescia-Lecce X2 Lecce che viene da un buon momento, comunque è una stagione sicuramente migliore del Brescia Anche se il ritorno di Corini può dare quella scossa, infatti non ho messo due secco ma X2 potrebbe dare quella spinta in più Più al Brescia che potrebbe anche vincere però io ho messo X2 perché sono fiducioso nel Lecce Napoli-Parma over 1,5 Arriva Ringhiogattu sulla panchina del Napoli che è gli stessi punti del Parma quindi non volevo sbilanciarmi troppo Ho messo over 1,5 perché secondo me finisce o 2-0 o 1-1 o 3-1 Genoa-Sampdoria under 2,5 Una stagione non troppo buona per entrambe le squadre Sampdoria un po' in ripresa, Genoa non molto Io ho messo un under 2,5 per secondo me diciamo non si segneranno molti gol Contraria la storia per Verona-Torino che sono due squadre che si equivalgono in questo momento E quindi per me un gol a testa 1-1 finirà però per non rischiare un messo gol Bologna-Atalanta X2 dopo la magnifica qualificazione forse avranno anche un po' la testa fra le nuvole Però ho voluto dare fiducia ai ragazzi di Gasperini Non troppa però la giusta sicurezza X2 penso di riuscire a prenderlo Sinceramente giudinese 1 qui non c'è da parlare perché è nettamente favorita la Juventus Come favorito il Milan anche se comunque sappiamo le difficoltà del Milan in questa stagione Viene da due vittorie fuori casa di fila Sono fiducioso per questo Milan di Pioli che sta iniziando a ingranare la marcia Speriamo di vedere presto il Milan nelle zone che contano anche se quest'anno sarà difficile Quindi ho messo uno X Roma-Spal Roma fresca della qualificazione in Europa League Per me farà un buon risultato con la Spal che non sta andando benissimo Ha perso la settimana scorsa in casa Ho sbagliato da Petagna quindi diciamo che non è una grande stagione per la Spal Quest'anno fatica era a salvarsi per me Quindi vittoria scontata della Roma Fiorentina-Inter questo è difficile perché la Fiorentina viene da quattro sconfitte di fila Però ricordiamoci che la Fiorentina ha pareggiato con la Juve L'Inter è temibile Volevano subito riscattarsi dalla mancata qualificazione agli ottavi di Champions Per me finirà o 2-0 o 0-3 Cagliari-Lazio Comunque Fiorentina-Inter 2 più over 1,5 L'unica multipla Cagliari-Lazio ho messo gol Perché comunque sono due squadre che stanno andando molto bene Rispettivamente terza e quarta in campionato Leggermente favorita la Lazio ma il Cagliari in casa sa cosa fare E quindi Veramente partita tosta per me può finire anche un pareggio con anche 3-3 così E sicuramente tutte le squadre segneranno almeno un gol Ricapitolando ho messo Una, due, tre, tre doppie che sono X2 e 1X di Brescia-Lecci, Bologna-Atalanta e Mila-Sassuolo Di singole ne ho messo solo due Che sono Roma-Spal 1, Juventus-Nese 1 Ho messo due gol Un in Verona-Torino Un in Cagliari-Lazio Nessuno gol Un over 1,5 Un under 2,5 E una multipla Due più Over 1,5 Ragazzi iscrivetevi Cosa cambiereste Iscrivetevi al canale YouTube Ci vediamo domani con il post partita di Novara Lasciate like Noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi